L'intera famiglia era tristata dall'apprendere quanto difficili siano stati per Harry e Meghan gli ultimi anni. Le questioni sollevate, in particolare quella relativa alla razza, sono preoccupanti. Sebbene su alcune ricostruzioni ci possano essere pareri discordanti, vengono prese molto seriamente e saranno affrontate dalla famiglia in privato. Harry, Meghan e Archie saranno sempre membri amatissimi della famiglia. Il comunicato della regina Elisabetta è arrivato nel tardo pomeriggio di martedì 9 marzo, un giorno e mezzo dopo l'intervista che sua nipote Harry e la moglie Meghan Markle avevano concesso a Oprah Winfrey sulla rete statunitense CBS. Un'intervista annunciata e attesa per settimane, in cui i duchi di Sussex hanno spiegato le ragioni del loro distacco dalla famiglia reale inglese. Tutti si aspettavano rivelazioni importanti, ma nessuno poteva prevedere che Meghan avrebbe raccontato dei suoi pensieri suicidi durante la gravidanza o che un membro dei Windsor avrebbe espresso la preoccupazione che il piccolo Archie in arrivo potesse essere troppo scuro di pelle, sottinteso, viste le origini afroamericane della madre. Accuse gravissime che hanno costretto la regina a interrompere il silenzio che in un primo momento sembrava volesse mantenere sull'argomento. A quasi una settimana dall'intervista a Oprah, il corrispondente Luigi Polito racconterà che Aria si respira a Londra dopo le parole di The Queen, mentre l'esperta di reali Enrica Rondolo ci ricorderà che questa non è certo la prima spinosa questione di famiglia che Elisabetta ha dovuto risolvere nel suo lungo regno. Poi Lorenzo Cremonesi ci spiegherà il peso storico e simbolico del recente viaggio del Papa in Iraq che ha seguito di persona come inviato. Io sono Tommaso Pellizzari e questo è Corriere Daily di venerdì 11 marzo, il podcast quotidiano che racconta persone, storie e luoghi con le parole dei giornalisti del Corriere della Sera. Non siamo assolutamente una famiglia razzista, ha detto ieri il principe William, fratello di Harry, rispondendo ai giornalisti durante una visita a una scuola di Londra. Parole che sono arrivate dopo quelle di sua nonna Elisabetta. Luigi Polito, mercoledì sul Corriere, ha scritto che l'intervista a Oprah Winfrey ha provocato la crisi più grave degli ultimi 85 anni della monarchia, cioè dai giorni dell'abdicazione di Edoardo VIII. A qualche giorno di distanza, qual è lo stato d'animo dei sudditi britannici? La regina Elisabetta ha deciso di prendere direttamente in mano personalmente la gestione della crisi provocata dalla clamorosa intervista di Meghan e Harry. La regina nei prossimi giorni proverà a parlare direttamente con Harry e intanto ha ordinato il silenzio a tutti gli altri membri della famiglia reale e ai membri della corte di Buckingham Palace. L'intenzione è quella di gestire la crisi in privato, di risolverla privatamente come una questione di famiglia, evitando di continuare a lavare i panni sporchi in pubblico. Il comunicato di Buckingham Palace, scarno, misurato, col quale la regina ha cercato di mettere un punto fermo alla crisi, non risolve il danno di immagine procurato alla monarchia. L'accusa di razzismo mossa da Harry e Meghan è quanto di peggio si potesse immaginare. In una società multietnica come quella britannica l'accusa di razzismo è infamante. L'intervista di Harry Meghan ha minato alla radice, in qualche modo, la credibilità stessa della monarchia britannica e la sua legittimità agli occhi dei sudditi. Ci sono molti, non pochi, che cominciano a porsi domande sulla possibilità di sopravvivenza a lungo termine dell'istituzione monarchica, specialmente dopo l'inevitabile trapasso di Elisabetta. Anche se c'è da dire che i sondaggi fatti al volo fra l'opinione pubblica britannica vedono una maggioranza di sudditi schierati dalla parte della regina, anche se c'è una grossa fetta che solidarizza con Meghan e Harry e una buona parte di opinione pubblica che non si esprime. Ed è un divario soprattutto generazionale con i più giovani schierati dalla parte di Harry e Meghan e i più che invece fanno quadrato attorno alla sovrana. Quali sono state invece le reazioni politiche? Il governo di Boris Johnson ha evitato di prendere posizione, Johnson si è trincerato dietro un ripetuto no comment, anche se non ha preso esplicitamente le difese della famiglia reale. Ha evitato il governo di entrare in una polemica estremamente spinosa, dato che coinvolge la questione del razzismo. Invece i laboristi hanno cavalcato l'onda dell'indignazione nei confronti di una monarchia percepita come subdolamente razzista e addirittura i laboristi hanno chiesto che Buckingham Palace avviasse un'indagine interna. Diciamo che la divisione politica in Gran Bretagna è grossomodo fra una sinistra, un campo progressista che solidarizza con Meghan Markle, che vede vittima dell'istituzione vittima del razzismo e invece un'opinione pubblica conservatrice che ovviamente si schiera più a difesa della monarchia. È interessante vedere invece che questa divisione non si riproduce negli Stati Uniti d'America, dove l'opinione pubblica e il mondo politico si sono schierati compatti dalla parte di Meghan, vista come un'americana che è finita vittima del razzismo, colonialismo, imperialismo britannico rappresentato dalla monarchia. Nemmeno l'intervista a Oprah Winfrey comunque è riuscita a dare una risposta alla domanda chi è davvero Meghan Markle? Anche in questo caso ci sono due interpretazioni, due correnti di pensiero se vogliamo. La prima interpretazione è quella affacciata dalla stessa Meghan nel corso dell'intervista. Lei si è dipinta come una giovane americana abbastanza ingenua, ha detto di se stessa di essere stata naif a sposare così ingenuamente un membro di una famiglia reale europea senza comprenderne appieno tutte le implicazioni. E dunque, secondo questa narrativa, Meghan sarebbe sostanzialmente una vittima che è finita stritolata dal protocollo reale, è stata condotta fino a meditare il suicidio e quindi a decidere di cercare di nuovo di riprendersi la libertà in America assieme a suo marito. L'altra interpretazione, quella dei detrattori, vede invece in Meghan Markle una arrampicatrice sociale, una abile calcolatrice che aveva previsto tutto fin dall'inizio, che era venuta in Europa per sposare qualcuno di ricco e famoso, che addirittura è riuscita a portare a casa un principe reale e che fin dall'inizio aveva programmato di ammantarsi del mantello reale per poi tornare in patria a fare fortuna, diventare una celebrity, stringere contratti milionari come ha fatto con Netflix, con Spotify e addirittura, come immagina qualcuno, in un secondo momento magari scendere nell'arena politica. Dunque tutto un calcolo, tutto un percorso previsto fin dall'inizio. È anche vero però che nella sua diversità quello di Harry e Meghan è un film già visto. Il loro in fondo è solo l'ultimo fra i tanti casi della famiglia Windsor da quando Elisabetta è diventata regina. Sì, siamo di fronte per l'ennesima volta a una crisi familiare in casa Windsor che però è allo stesso momento una crisi istituzionale della Gran Bretagna, perché questo è il filo conduttore della monarchia, soprattutto sotto il regno di Elisabetta II. Una continua tensione fra la famiglia e le istituzioni. Pensiamo al caso di Margaret, la sorella di Elisabetta, alla quale fu vietato sposare un divorziato. Pensiamo ovviamente a tutta la saga di Diana e cosa succede in questi giorni con Harry e Meghan e la loro fuga in California. Ogni volta si ripropone lo stesso copione, la tensione fra quella che è fondamentalmente una famiglia disfunzionale ma che allo stesso tempo incarna la più alta istituzione del Regno Unito. Questa tensione fra famiglia e istituzione è quello che fa sì che le beghe familiari assumano un carattere dirompente per tutta la Gran Bretagna. Non dimentichiamo che Harry resta il sesto nella linea di successione al trono, ma qualcuno ha detto immaginiamo cosa potrebbe succedere se capita qualcosa di brutto a Carlo e a William, cosa che è improbabile ma non impossibile. Beh, Harry improvvisamente diventerebbe il reggente in nome del piccolo principe George, cioè Harry non è così lontano dal trono alla fine. Quindi ecco perché una crisi familiare come questa è allo stesso tempo una crisi della monarchia, una crisi costituzionale per la Gran Bretagna. Luigi Ippolito ha accennato ai casi della principessa Margaret o di Carlo e Diana. Enrica Roddolo è la giornalista che si occupa per il Corriere della Sera dei reali di tutto il mondo. Dopo aver pubblicato I segreti di Buckingham Palace uscirà ad aprile con un nuovo libro intitolato Filippo and the Queen. A lei ho chiesto di raccontare quali sono state le crisi familiari più complicate che Elisabetta ha dovuto risolvere nei suoi finora 69 anni di regno e fin dal primo momento tra l'altro. Esattamente durante la cerimonia a Westminster Abbey nel giugno del 1953, la cerimonia di incoronazione della regina Elisabetta, quando la mano della sorella Margaret sfiorò la giacca del capitano Housen che era stato eroe della battaglia d'Inghilterra, poi scudiero del padre re Giorgio VI e del quale la giovane principessa si era innamorata. Il mondo che seguiva la cerimonia in televisione notò quel gesto affettuoso e così l'amore privato diventò un oggetto di dibattito pubblico. Un dibattito complicato perché una faccenda privata come una storia d'amore diventava una questione istituzionale. Housen era sposato, aveva dei figli e su tutto questo poi incombeva un fresco precedente. Quel pesantissimo precedente di Wally Simpson, una pluridivorziata americana che con il suo amore aveva messo nel pentaglio la stabilità della corona dei Windsor, tanto che Edoardo VIII, il fratello di Giorgio VI, si deciderà per l'abdicazione lasciando la strada a Giorgio VI, che tutti noi conosciamo appunto come il re del famoso film, il discorso del re. Poi c'è la storia più famosa e complicata di tutte, quella di Carlo e Diana, finita tragicamente con la morte dell'ex principessa di Galles a Parigi in un incidente stradale il 31 agosto del 1997. Tutto questo generò un vero terremoto istituzionale, tant'è che in quel caso, a differenza di quanto abbiamo visto in queste ore con la reazione di Downey Street alla vicenda di Harry e Meghan molto defilata, in quel caso fu invece lo stesso primo ministro, il giovanissimo all'epoca Tony Blair, a prendere in mano le redine della situazione e invitare la regina a pronunciarsi, insomma a cambiare la situazione che stava diventando molto problematica, come indicarono subito i sondaggi di opinione, per la sovrana e per la monarchia. Infine, la sgradevole vicenda di un altro figlio di Elisabetta, Andrea, fratello minore di Carlo. La sua amicizia con Brian Epstein ha creato parecchi problemi a Buckingham Palace. Epstein è il miliardaio americano arrestato con l'accusa di abusi sessuali e traffico internazionale di minorenni e poi morto suicida in cella nell'agosto del 2019. Una questione che è già costata al principe l'abbandono di tutti gli impegni reali, non comparerà più in occasioni ufficiali e a proposito di interviste pure il principe Andrea diede nel 2019 un'intervista alla BBC che per la verità, anziché chiarire la situazione e allontanare le nubi all'orizzonte, rafforzò anzi le voci scettiche sul possibile ruolo in questa vicenda del principe Andrea. Si disse all'epoca appunto che era stata un'intervista decisa dal principe in modo un po' avventato, inconsapevole forse che ogni sua parola sarebbe stata passata al setaccio e decrittata in ogni suo aspetto. Una cosa è certa appunto come diceva Walter Bajot, una famiglia sul trono ha tutti i benefici ma anche tutte le complicazioni di una famiglia sul trono. Fa sognare con il royal wedding, con il royal baby e ce ne sarà un altro in arrivo, al nuovo royal baby di Harry e Meghan che sarà una bambina come è stato annunciato dal principe Harry proprio nell'intervista con Ofra Winfrey, ma c'è anche la difficile gestione di tutto il resto e quindi presuppone una vita privata praticamente impeccabile perché soprattutto in una società come la nostra altamente mediatica ovviamente tutto viene passato sotto la lente di ingrandimento. Grazie Enrica Roddolo e Luigi Polito. Noi andiamo avanti con Lorenzo Cremonesi per parlare del recente viaggio del Papa in Iraq. Ora si avvicina il momento di ripartire per Roma, ma l'Iraq rimarrà sempre con me nel mio cuore. Lorenzo, perché la missione di Francesco in Iraq è stata così importante? È stata definita storica, non a caso, per una volta è veramente una visita importantissima, una visita centrale. Nella storia di questo paese, nella storia moderna, contemporanea, è un paese devastato dalla guerra, dove pochissimi leader politici, senza parlare di leader religiosi, sono mai recati sin da prima dei tempi di Saddam Hussein, un paese inutile ricordare, l'invasione americana del 2003, la guerra del 91, il terrorismo degli anni 2000 e poi ISIS e tutto quello che abbiamo tragicamente visto negli ultimi anni. Il Papa ci è andato sfidando chi prospettava l'eventualità di attentati, che ci fossero morti, feriti e soprattutto chi lo accusava di poter essere veicolo di pandemia. In Iraq naturalmente c'è il virus come in tutto il mondo e quindi che il Covid potesse colpire lui. Lui lo ha ripetuto più volte, no, è importante andare. Basta tenere a mente quello che succedeva a Mosul, che è stata fino al 2017 la capitale del califato. Il Papa si è recato nelle chiese di Mosul e a meno di 500 metri in linea d'aria ci sta la famosa moschea al Nuri, dove nel 2014 al Baghdadi pronunciò il famoso discorso di annuncio al mondo della nascita di quella cosa terrificante che era il califato. Il Papa ci è andato e ha parlato non soltanto ai suoi cristiani, ma al mondo intero, ha parlato della necessità di dialogo non solo interreligioso, ma anche dialogo politico. Quali sono state le tappe principali di questo viaggio? Il viaggio si è diviso, direi, in tre parti. Il Papa è arrivato ed è andato in un luogo fondamentale, questa basilica sirio-cattolica, la chiesa della nostra signora della salvezza, dove nel 2010 ci fu un terribile attentato tra i tanti. Le chiese furono prese di mira dai fondamentalisti sin dal 2004 e morirono 48 persone, tra cui due sacerdoti. E lì c'è stato questo primo incontro con la comunità cristiana di Baghdadi, che è una comunità ridotta all'osso. Non dimentichiamo che in Iraq vivevano, fino a prima del 2003, circa 1.600.000 cristiani. Oggi sono meno di 250.000. Dopo l'incontro con quel che resta dei cristiani iracheni, qual è stata la seconda tappa da mettere in evidenza? La seconda tappa importante è stata quella con Ali Al-Sistani, che è il leader religioso shita più importante del Iraq, ma anche che ha una statura mondiale. È stato definito giustamente l'anticomeni, cioè è la parte moderata, la faccia più religiosa e meno violenta dell'islam shita. È l'uomo che ha voluto il dialogo con gli americani dopo la guerra, che ha creato le milizie di resistenza anti-ISIS nel 2014 e che ha sempre predicato, nonostante la gravità degli attentati di ISIS e di Al-Qaeda prima, il dialogo tra shiti e i sunniti. Quindi importantissimo, perché non dimentichiamo il contesto internazionale, siamo nell'era di Biden, siamo nell'era del tentativo americano e occidentale di riaprire il dialogo con l'Iran, per rimettere in piedi il famoso trattato sul nucleare. Il papa cosa fa? Incontra un leader moderato shita che facilita e che aiuta questo dialogo. Sicuramente ci sono momenti in cui la fede può vacillare, quando sembra che Dio non veda e non agisca. Quando questo per voi era vero nei giorni più bui della guerra, ed è vero anche in questi giorni di crisi sanitaria globale e di grande insicurezza. In questi momenti ricordate che Gesù è al vostro fianco. Non smettete di sognare, non arrendetevi, non perdete la speranza. Particolarmente significativi sono stati altri incontri con altre comunità cristiane. Karakosh, dopo Mosul e Irbil l'ultimo giorno, il 7 di marzo, è stato incontro con la sua gente. Di si è visto questo abbraccio di folla, coraggiosa e determinata a restare attorno al suo papa. Devo dire, l'emozione, la forza, l'importanza di tutto questo non si può capire se non si ricorda quello che era l'Iraq 4-5 anni fa ai tempi del Califato. Grazie Lorenzo Cremonesi Oggi finiamo qui. Per altri approfondimenti, nel sommario di questo episodio potete trovare i link agli articoli di Corriere.it Se volete scriverci, mandate una mail a Corriere Daily chiocciola rcs.it Corriere Daily torna domani con l'ammazzacaffè di Massimo Gramellini. Corriere Daily è il podcast quotidiano del Corriere della Sera, condotto da Tommaso Pellizzari. Produzione di Carlo Annese, montaggio di Federico Caruso e Giacomo Vaghi. Iscriviti alla serie nella tua app preferita. Riceverai ogni mattina la notifica dell'uscita di un nuovo episodio e potrai anche impostare il download automatico.